I prodotti biologici dell'Alto Adige per la prima volta organizzano insieme un corso di formazione per professionisti del suolo. Si tratta della cosiddetta biodinamica, passo in avanti di una produzione agricola sempre più apprezzata dai consumatori. Monica Pietrangeli. I prodotti biologici conquistano il mercato e ormai di sostenibilità parla persino chi produce in modo intensivo, anche perché i terreni dopo anni di monoculture sono esausti. A 60 anni viene coltivata frutticultura su questo terreno e sappiamo che su ogni terreno se coltiviamo una certa frutta per diversi anni ci sono dei patogeni nella terra che si accumulano e che fanno in modo che le prossime piante di questa varietà non crescano più, invece altre varietà crescono. Tra i tanti contadini bio dell'Alto Adige sono 160, tra loro Klaus e Vicentin, che vediamo nelle immagini, quelli che già seguono le regole della biodinamica, secondo la quale l'attenzione deve essere spostata dalla pianta al terreno. Le tecniche vengono insegnate in corsi destinati agli operatori agricoli ma consigliati a tutti. È il nostro dovere tenere i terreni viventi e questo lo possiamo permetterci col lavoro dell'humus, col compost biodinamico, anche è lì che facciamo rinascere il terreno. Le tre associazioni di produttori biologici dell'Alto Adige entro l'anno si riuniranno in un unico consorzio per dare ulteriore impulso al loro modo di produzione. I tempi insomma sono maturi per conquistare il grande mercato e uscire definitivamente da quello di nicchia.